Comandante, come vive questa giornata oggi? Beh, sicuramente si tratta di una giornata speciale per la Polizia di Stato e per la Polizia Stradale in particolare. Infatti, come è già stato detto, festeggiamo i 40 anni della sottosezione di Imperia Ovest, costituita nell'ormai lontano 1975, ma festeggiamo anche l'inaugurazione della sezione di Imperia che è stata spostata in questo nuovo stabile, nello stabile che già ospitava la sottosezione e che è stato sistemato e riadeguato con nuovi canoni di sicurezza grazie all'apporto, al contributo di Autofiori.